Lucia Bramieri del GF commenta la storia d'amore tra Filippo Contri e Lucia Orlando. Io sono un po' poco convinta. Lucia Orlando e Filippo Contri sono sicuramente una delle copie più amate e seguite dell'ultima edizione del Grande Fratello. I due, ad oggi, sui social continuano a mostrarsi ai propri, fan felici e innamorati, ma, sul sentimento che li lega, sembrerebbe che ci sia qualcuno ancora poco convinto. Chi? Si tratta di Lucia Bramieri, la nuora del celebre Gino Bramieri. Che con i ragazzi, ha condiviso quest'anno l'esperienza del GF 15. Perché la Bramieri non crede, che questa coppia sia destinata a durare? Io in generale, sono un po' poco convinta delle coppie che nascono all'interno di contenitori televisivi. Ha spiegato lei che su Filippo e Lucia, inoltre, sembrerebbe avere dubbi ancora maggiori. Filippo Contri e Lucia Orlando, è vero amore. Lucia Bramieri e i suoi dubbi sulla coppia dopo il Grande Fratello 15. Sulla storia d'amore nata a Grande Fratello 15 tra Lucia Orlando e Filippo Contri oggi a Non Succederà Più, programma radiofonico condotto da Giada Di Micelli in onda su Radio Radio, Lucia Bramieri ha detto. Io col cuore gli auguro che questa relazione diventi lunga, però qualche perplessità, e qualche dubbio ce l'ho. Il motivo? Hanno modi di vivere, di pensare e fare diversi ha aggiunto poi la Bramieri sono due ragazzi che vengono da due mondi diversi, finché c'è una grande passione iniziale dura, il problema è poi quando questo innamoramento passa e allora tu ti devi confrontare con quello, Lucia è più semplice mentre Filippo lo vedo più sofisticato. Lidia Vella, Filippo Contri e Lucia Orlando dopo il GF 15. L'amore fuori dal reality. Ad esprimere un'opinione molto simile a quella di Lucia Bramieri qualche settimana fa è stata anche Lidia Vella. L'ex concorrente del GF, infatti, a non succederà più aveva palesato le stesse perplessità su Filippo Contri e Lucia Orlando. La coppia, però, dopo il grande fratello sembrerebbe più unita che mai. Chi tra tutti, avrà alla fine ragione? La coppia, però, dopo il grande fratello sembrerbbe più un'epoca, non succederà più verde. L'amore. 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 Grazie a tutti.